Non c'è pace per un'Italia che in pochi giorni piange troppi morti. Da Genova civita un unico grido di dolore. Le salme della strage del Raganello sono tornate nelle proprie città d'origine, resta in Calabria Antonio De Rasis. In migliaia cerchiera di Calabria per i funerali della guida esperta soccorritore alpino che aveva dato il suo contributo anche durante la tragedia di Rigopiano. Un ragazzo, si legge sui social, che davanti al pericolo non si tirava indietro ma che cercava di salvare prima gli altri e poi se stesso. Non è stato facile per i soccorritori dare un nome alle giovani vittime. Acqua, fango e disperazione avevano mutato i loro corpi. Ancora più difficile farlo insieme ai parenti. Abbiamo fatto questo servizio veramente, devo dire, che non avremmo mai immaginato di dover fare, che era fotografare le salme, identificare gli effetti personali, quantomeno le caratteristiche per dare un nome a tutti. E devo dire che lo abbiamo fatto tramite le telefonate che arrivavano dei parenti, insomma, di chi li cercava, ai carabinieri o al pronto soccorso, fotografie inviate dalla qualunque, fotografie su Facebook, eccetera. Per cui abbiamo confrontato le fotografie con le salme e, insomma, nel giro di quattro ore siamo riusciti a dare un nome a tutti. Cinque delle salme sono state identificate, perché poi l'identificazione ufficiale andava fatta dai parenti stretti e dai carabinieri facendo fermare il verbale di riconoscimento. Per cui abbiamo aiutato i parenti in questa cosa veramente tragica. Nel giro di cinque delle salme sono state riconosciute, i verbali sono stati fatti qui a Civita e gli altri invece, il procuratore poi ha disposto che fossero portati alle tre, alle quattro, sono stati portati negli obitori dei vari ospedali e le altre cinque sono state riconosciute in obitorio, in effetti. Grazie.